Quando si parla di titoli in Premier League c'è un veterano che ne sa un po' più di altri. Lui è Andy Colex, centrocampista del Manchester United, che nei sei anni con la maglia dei Red Devils è salito sul trono di calcio inglese per cinque volte. Prolifico sottoporta, l'attuale allenatore dell'Huddersfield Town è convinto che sono proprio i centravanti puri quelli che faranno la differenza e che porteranno il titolo ad Old Trafford. Ascoltiamo le sue parole. Credo che attualmente la rosa attuale del Manchester United sia molto buona. Dopo aver mancato il titolo la scorsa stagione, per un solo gol Ferguson ha deciso di comprare un attaccante come Roby Van Persie. Con Rooney, Webb e Hernandez, sta segnando molto e la squadra è in ottima forma. Stiamo giocando un buon calcio, anche se l'inizio di stagione non è stato dei migliori. L'inizio di stagione non siamo arrivati alla forma che stavamo cercando, ma guardando il momento stiamo facendo molto bene. Mentre Cole può vantare i cinque titoli, lui sarà l'ex Ferguson nella caccia del tredicesimo nella sua lunga carriera di allenatore ad Old Trafford. Sono infatti 26 le candeline da spegnere per il manager scozzese, un record che secondo Cole difficilmente potrà ripetersi. Sarebbe un'impresa per chiunque fare quello che ha fatto lui in 26 anni e non credo che questo possa accadere ancora. Ferguson è un tecnico carismatico e dà molto al suo club. Quando se ne andrà lascerà di sicuro questa squadra in grande forma. Per me è stato un onore giocare per lui. Ferguson è ancora in cerca di gloria sul terreno europeo, quello della Champions League con i Red Devils che hanno raggiunto la fase eliminatoria dopo solo quattro gare. Nonostante i suoi 70 anni, il tecnico scozzese è sempre pronto a sfidarsi su tutti i fronti.